Buonasera a tutti, ringrazio il professor Punzi per il gentile invito e anche i moderatori. Negli ultimi dieci anni si sono susseguite numerose raccomandazioni EULAR per il trattamento dell'artrosi del ginocchio, dell'anca e della mano. Queste ultime poi sono state riprese anche in tempi più recenti dal gruppo di esperti italiano e con appunto una disamina adattata all'ambito nazionale. Anche l'ORSI ha appunto costruito delle raccomandazioni sia per l'artrosi dell'anca e del ginocchio in due successivi step. Per arrivare poi nel 2012 alle raccomandazioni dell'American College dove compare già nel titolo l'importanza dei provvedimenti terapeutici non farmacologici e farmacologici nel trattamento dell'artrosi sia della mano che dell'anca e del ginocchio. Nel 2014 LOARSI ha costruito delle linee guida per il trattamento non chirurgico dell'artrosi del ginocchio e l'importanza metodologica di queste raccomandazioni era proprio quella di porre l'attenzione sull'effect size dei vari presidi terapeutici sia farmacologici che non farmacologici. Inoltre la stratificazione dei pazienti prevedeva appunto la disamina del coinvolgimento articolare, monoarticolare quindi del ginocchio oppure anche la presenza di altre articolazioni coinvolte come la mano, la colonna vertebrale e l'anca. Inoltre vi è stata anche una stratificazione per i fattori di rischio dovuti appunto alle comorbidità includendo appunto un rischio moderato e un alto rischio dove vi erano appunto pazienti considerati con infarto miocardico e in fase scompensata oppure patologie renali. E questo è l'esempio appunto prendendo a riferimento il paracetamolo di come i rischi e i benefici di questo farmaco venivano appunto considerati con uno score e ogni presidio terapeutico veniva considerato come appropriato, incerto o non appropriato. Questa è la flowchart diciamo riassuntiva delle raccomandazioni dell'Oarsi per il trattamento non chirurgico del ginocchio dove vediamo che l'importanza viene data sicuramente al trattamento non farmacologico di questi pazienti come abbiamo sentito prima il professor Massiero sia gli esercizi di base ma anche il rinforzo muscolare e anche in pazienti complicati quindi con comorbidità l'utilizzo di esercizi in acqua per non gravare appunto il paziente complesso complicato o affetto appunto da altre comorbidità. Per quanto riguarda i provvedimenti terapeutici quindi farmacologici vediamo che scendendo nella scaletta dei vari farmaci i COX-2 quindi gli inibitori selettivi della COX-2 hanno un posto diciamo principale in queste raccomandazioni chiaramente utilizzate con appunto il rispetto del paziente istruendo il paziente nella sua assunzione ma anche considerando appunto le varie comorbidità. È interessante vedere come l'infiltrazione intraarticolare con corticosteroide a lento rilascio è praticamente trasversale sia nei pazienti con impegno articolare, monoarticolare ma anche con pazienti affetti da artrosi anche di altre articolazioni. Per arrivare alle recenti, sebbene siano sempre del 2014 ma più recenti raccomandazioni sotto forma di un algoritmo gli esperti internazionali del gruppo ESCEO hanno considerato tutta la letteratura fino al 2014 per proporre un algoritmo di raccomandazioni terapeutiche che prevede la combinazione quindi sottolineano ancora una volta la combinazione di provvedimenti non farmacologici insieme appunto alla terapia più che altro medica e questa è una raccomandazione fortemente voluta dagli esperti inoltre il cuore di queste raccomandazioni prevede l'informazione quindi ritorna l'aspetto educazionale del paziente il controllo del peso dove sussiste appunto un sovrappeso o l'obesità e poi un programma di esercizi soprattutto in ambito aerobio e di rinforzo muscolare il primo step terapeutico quindi a binario se così possiamo dire riguarda chiaramente l'artrosi sintomatica del ginocchio e il paracetamolo viene raccomandato nell'assunzione regolare e non a richiesta l'utilizzo anche dei sisadoa come farmaci diciamo di fondo per quanto riguarda l'artrosi del ginocchio nella glucosamina solfato e nel condroitin solfato viene raccomandato anche in associazione all'utilizzo del paracetamolo al bisogno di pari passo importante è l'approccio fisioterapeutico con appunto un fisioterapista di riferimento chiaramente il paziente deve essere comunque valutato dal fisiatra per sicuramente provvedere a anche considerare dei rischi come il male allineamento articolare con l'utilizzo di presidi come possono essere appunto dei tutori per il ginocchio o anche dei semplici plantari se nell'algoritmo se il paziente persiste sintomatico l'utilizzo degli antinfiammatori non steroidei viene raccomandato anche l'uso topico della capsaicina in aggiunta chiaramente se persistono i sintomi il sintomo principale considerato è il dolore sicuramente gli ausili anche per la deambulazione o la terapia manuale, la terapia termica nel secondo step vengono presi in considerazione nel caso di persistenza o di severità dei sintomi l'utilizzo degli farmaci antinfiammatori non steroidei anche qui vi è una stratificazione nel rischio di utilizzo di questi farmaci e quindi viene raccomandato chiaramente l'associazione con i PPI ma anche con gli inibitori di pompa protonica ma anche questi devono essere considerati nell'utilizzo sistematico dei COX-2 e nel rischio cardiovascolare il farmaco antinfiammatorio non steroideo che ha parità di effetti è il risultato meno nocivo è il naprossene è da considerare in queste linee guida che il diclofenac ad alte dosi e l'ibuprofene specialmente associato all'acido acetilsalicilico a basse dosi può peggiorare appunto il rischio cardiovascolare chiaramente nei pazienti con insufficienza renale gli antinfiammatori sono da evitare un ruolo anche importante viene ad essere diciamo costituito dalle infiltrazioni di acido ialuronico e di corticosteroidi lo step successivo nella persistenza del dolore cronico nel dolore meccanico che può anche diventare un dolore continuo quindi non solo al carico l'utilizzo degli oppiacei minori come il tramadolo e l'impiego anche per il dolore cronico della duloxetina lo step finale è quello appunto della consulenza ortopedica per considerare una protesi nel caso questa fosse non accettata dal paziente o controindicata per comorbilità le linee guida ci raccomandano l'utilizzo degli oppiacei maggiori è recentissima questa review degli esperti europei e americani che prende in considerazione tutte le raccomandazioni sulla terapia dell'artrosi nell'ultimo decennio e in queste immagini vengono comparate appunto le linee guida di cui vi ho accennato e considerando appunto l'effet size della terapia fisica dove questa viene considerata sia nel beneficio del dolore ma anche del recupero funzionale articolare e nell'ultima diciamo raccomandazione quelle dell'esceo del 2014 vi è appunto come ho detto un particolare riferimento all'aspetto educazionale del paziente per tutti i pazienti affetti da artrosi per quanto riguarda la terapia farmacologica diciamo che la novità del gruppo esceo è quella di aver considerato i sisadoa nell'ambito appunto della terapia farmacologica insieme al paracetamolo come anche miglioramento del dolore la terapia intraarticolare il professor Punzi vi ha parlato stamattina dell'acido ialuronico un riferimento lo faccio all'utilizzo dei corticosteroidi a rilascio prolungato e sicuramente sono da utilizzare nell'impegno articolare, monoarticolare nelle fasi di infiammazione in questi pazienti soprattutto per non a scopo sicuramente analgesico quindi le raccomandazioni ci dicono che è una terapia da utilizzare ma ovviamente con delle cautele e anche in mani esperte è un approccio sicuro quindi in ultima analisi la terapia farmacologica e quella non farmacologica devono essere perseguite dal reumatologo nei pazienti con artrosi del ginocchio di pari passo l'importanza di personalizzare la terapia stratificando i pazienti in base ai sintomi anche la semplice VAS in ambulatorio i tempi sono sempre molto stretti però è semplice da chiedere al paziente anche per valutare il miglioramento nel tempo e sicuramente è importante anche chiedere l'insorgenza le modalità appunto di insorgenza del dolore inoltre tenere conto del rischio delle copatologie ma è importante anche che i ricercatori aprano una finestra su nuove molecole e diciamo si fa tanto parlare di molecole come i nutraceutici e che in vitro hanno dimostrato appunto un'azione di blocco sull'NFKB e sulle COX-2 e anche un'inibizione della CASPASI-3 questo nell'uomo è molto difficile da dimostrare e non ci sono tutt'oggi evidenze scientifiche che ci dimostrano questo inoltre nel dolore cronico quando appunto l'insulto meccanico infiammatorio produce una via ascendente attraverso il fascio spinotalamico con irradiazione alla corteccia è da considerare che la cronicità di questo dolore può essere appannaggio di una via discendente con una sensibilizzazione periferica ed è in questo ambito che è stato appunto messo l'accento sul nerve growth factor e c'è già stato un trial di cui abbiamo i dati preliminari il centro di Padova sarà coinvolto sull'utilizzo del full ranumab che è un anticorpo monoclonale che blocca il nerve growth factor inoltre negli ultimi anni si è parlato molto di cellule staminali anche qui ci sono dei progetti internazionali come l'Horizon 2020 nell'utilizzo speriamo di partire anche con pazienti con un dolore cronico incoercibile che non ha risposto alle terapie di cui abbiamo parlato dove l'opportunità di prelevare gli adipociti dal grasso periombelicale poi stoccato e ovviamente curato in un laboratorio di riferimento internazionale e per via intraarticolare in ambiente protetto io vi ringrazio per l'attenzione e voglio ringraziare il professor Punzi e la dottoressa Ramonda e il gruppo delle dottoresse con cui lavoro in ambulatorio grazie grazie dottoressa complimenti per la precisione chiarezza e i tempi perfetto presentazione aperta a credo sicuramente qualche commento curiosità da parte del pubblico l'ora è tarduccia una mia curiosità ma la condroprotezione a sto punto per via sistemica non intraarticolare si deve fare o non si deve fare? perché le ultime linee guida ad esempio quelle dell'Oarsi la eliminano completamente sì in effetti l'idea è che le linee guida dell'Oarsi per l'artrosi del ginocchio avevano un'eterogenicità di studi a volte anche diciamo le meta-analisi non sono adeguate se così vogliamo dire a captare l'eterogenicità sia dei pazienti che non erano stratificati per età per intensità del dolore o anche coinvolgimento di altri fattori inoltre dobbiamo anche considerare credo un fattore geografico nel senso che molto spesso il territorio non come dire in Italia per esempio abbiamo approvazione per alcuni farmaci invece in America sicuramente no oppure in altri stati d'Europa non vengono utilizzati alcuni farmaci e quindi non vi è un'omogeneità nella rilevazione dei dati e quindi io mi sono fatta questa idea inoltre avevo letto qualcosa in merito alla diversità proprio di molecola utilizzata come la chondroitin solfato che conosciamo invece ci sono alcuni preparati a base di chondroitina cloridrato e probabilmente anche questo può aver confuso un po' le idee il tuo parere sul oarsi e le espressioni diciamo così che sono state date sull'uso dei cox2 inibitori selettivi o comunque dei antifianatori nostri idee che a me sembra un po' hanno voluto appunto introdurre come grande novità l'aspetto delle comorbidità dettagliando tutte quali possono essere dal diabete però a fin fine mi sembra che sia un po' molto più chiaro l'aspetto della società europea perché mi è sembrato un po' caotica poi il messaggio che derivava sull'uso non uso ad esempio di cox2 selettivi di cui si capiva il mio giudizio poco sono un tuo parere no no io sono d'accordo in effetti anche la review appunto del gruppo europeo l'ultima quella dell'esceo è molto chiara in questo infatti appunto le raccomandazioni dell'Oarsi avevano portato un po' di confusione nell'utilizzo io credo che c'è stato un rigore metodologico nelle ultime raccomandazioni quelle dell'esceo proprio maggiormente maggiore rispetto a quelle dell'Oarsi e quindi la rivalutazione sicuramente dei fattori che lei diceva sì e poi appunto concordo tantissimo e credo che siano fondamentali le ricerche che si appunto relazionano con quel che hai fatto vedere in ultimo perché questi sono pazienti che hanno veramente una situazione globale di dolore di disagio che deriva da tanti fattori quindi continuare anche a far linee guida sì per carità ma dei dettami che siano sempre un po' settoriali parlando di un ginocchio di una mano purtroppo questi sono pazienti che hanno problematica a 360 gradi infatti anche la metodologia di procedere per step penso che possa essere utile anche nell'ambulatorio quotidiano perché poi insomma possiamo dire tutto il contrario di tutto però effettivamente poi è il medico che si interfaccia con il paziente con i tempi degli ambulatori bisogna essere rapidi e anche dare delle risposte al paziente benissimo se non ci sono altre domande ti ringraziamo tanto veramente complimenti ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti